Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferia, anzi all'ultimo appuntamento con lo speciale degli antichi comuni. I cento anni di annessione degli antichi comuni e il viaggio finisce vicino alla sede di Milano News perché siamo nel comune di Trenno. In quello che è, alle nostre spalle lo vedete, la sede dell'ex comune di Trenno. L'ex comune di Trenno e Uniti. Questo ci fa capire che quindi l'annessione era una cosa vecchia. Anche perché il comune di Trenno e Uniti, qui abbiamo alle nostre spalle la sede del municipio che oggi è un edificio di casa popolare del comune di Milano. Quindi è di proprietà ancora del comune di Milano, utilizzato come abitazione. Perché non Trenno ma Trenno e Uniti? Perché appunto in precedenza l'allora comune di Trenno, che si trova più a nord, in fondo a via Cascina Bellaria. Qui siamo nella propagine ovest di Milano. Qui siamo su via Novara, la via che è tra le sue spalle è via Novara. Via Novara, esattamente. E quindi aggregò gli allora comuni di Figino, Quinto Romano, Quarto Cagnino e anche Lampugnano, che si trova più a nord, appunto insieme all'antico comune di Trenno. Ecco, dal punto di vista anche storico, noi conosciamo molto spesso alcune località associandole a un elemento di riferimento. Trenno, il parco di Trenno. Infatti si fece anche una gran confusione ai tempi delle vaccinazioni perché si disse che il centro vaccinale era nel parco di Trenno. Ah, vaccinale Trenno si chiamava? Trenno perché? Perché era associato al parcheggio di Trenno, parcheggio di Trenno non costruito ma ripreso dagli anni 90 e poi per l'Expo e venne battezzato parcheggio di Trenno. Ma non c'entrava niente perché era a due chilometri e mezzo di distanza e invece a qualche centinaio di metri abbiamo Figino. Ma Figino si vede che non piaceva. Va bene. Il risultato però è che tutti quanti, giornali, istituzioni, tutti nel parco di Trenno. E infatti si trovarono numerose persone che giravano attorno al parco di Trenno via Cascino del Bellari per trovare questo centro. Quindi l'importanza anche della toponomastica che non è solamente una questione da cultuori ma è che lì tu capisci quali sono le origini. Le origini sia il borgo oggi di Figino ma anche quello di Trenno hanno ormai compiuto documentalmente più di mille anni. Quindi la periferia oggi con l'aggregazione nel 1923 e l'abolizione dei centri amministrativi, il comune quindi la serie comunale per esempio del comune di Trenno Uniti, la città amministrativamente si è trasformata questa area in periferia. Che non è degrado, è solamente una questione, direi amministrativamente da un certo punto di vista. Bene, noi arrivati a questa situazione abbiamo queste realtà appunto che hanno un'identità molto antica e molto profonda. Moltissimo, dovete immaginare e qui lo facciamo, quindi insomma giochiamo un po' in casa, se io che Walter, perché proprio anche le nostre storie vivono intorno a questi luoghi. Quindi dovete immaginare che nel 1923 questo comune che vedete alle nostre spalle era praticamente in mezzo al nulla, c'erano giusto due casette di fianco e poi campi, marcite anzi, tante marcite c'erano all'epoca. Ma era in realtà in una posizione abbastanza importante perché qui passava il Gamma del Legno e quindi c'era una fermata importante del Gamma del Legno, del treno che appunto portava verso Formilano ma soprattutto che portava chi stava fuori Milano verso la città, portava verso le aziende della città ed era in realtà poi equidistante da, appunto abbiamo detto, Quinto Romano, Figino, Trenno e Quarto Cagnino. Perché altrimenti se fosse il comune di Trenno non si spiegherebbe e qui proprio lontano da Trenno è appunto vicino a Quarto Cagnino perché oggi qui noi siamo a Quarto Cagnino. Praticamente sì, il NIL, quello che chiamano nel comune, il nucleo di identità locale è quello di Quarto Cagnino. Ma a Trenno però ci andiamo adesso Walter, saliamo in macchina e ci spostiamo appunto un paio di chilometri più in su e andiamo lungo l'asse, lungo il bordo del parco di Trenno e del bosco in città perché si toccano appunto lungo via Cascina Bellaria, andiamo proprio nell'antico borgo di Trenno. Ecco, con una variante, anche un'aggiunta che nel parco di Trenno c'è Cascina Bellaria, ma di fianco c'è anche il cimitero di guerra di Milano dove sono appunto sepolti più di 400 giovani soldati del cimitero di guerra del comune. Lo vedremo appunto lungo la strada per Trenno. Ed eccolo qui il borgo, l'antico borgo di Trenno. Trenno, siamo in piazza San Giovanni, alle nostre spalle la chiesa di Trenno. La chiesa di Trenno. Chi in realtà dà le spalle al resto del comune di Trenno, no? Sì, beh, poi bisogna vedere anche la proprietà perché se pensiamo la casa parrocchiale è di fronte e quindi bisogna vedere anche la logistica, i proprietari delle terre e quant'altro, quindi questo è un po'. E siamo nell'antico comune di Trenno, quindi non di Trenno uniti come dicevamo prima, di Trenno, appunto distante un paio di chilometri dalla stessa comunica. Ho visto le viate strette di Trenno, i vicoli di Trenno oserei dire, no? Esattamente. Chi ha mantenuto anche una struttura fino a circa 20-25 anni fa dove c'è stato un nuovo insediamento abitativo, ma altrimenti ha mantenuto proprio una struttura dei primi anni del Novecento. Tenuto conto, ecco, una cosa abbastanza storica e importante è che Trenno era il capo della pieve di Trenno e che quindi era un territorio che, diciamo, possiamo dire grande quanto un quinto di Milano, ma andava da Arese e andava fino all'Orenteggio. Quindi Trenno, dal punto di vista anche le pieve avevano anche una competenza, diciamo così, amministrativa, non solamente religiosa e quindi era un centro importantissimo. Poi, nell'evoluzione storica di Milano, Trenno è rimasto, diciamo, un'isola felice, nel senso che è campagna, perché se noi ci voltiamo... Ah sì, basta guardare le nostre spalle, non si vede più niente, si vede campagna. La campagna che arriva fino a Bosco in città, tanto per intenderci, e poi prosegue e va verso Ficino e quindi il settimo milanese. Che sia un luogo pieno di storia e che c'era qui, appunto, da tantissimi anni, lo testimoniano, oltre alla chiesa, oltre ad alcune case, anche altri tipi di palazzi e ville che troviamo qua. Qui, ad esempio, c'è l'asilo infantile Clotilde Ratti-Welker, che è un luogo storico di questa comune. Il primo novecento è adesso la sede dell'asilo parrocchiale e quindi fa parte di questa area dei primi dei novecento, in particolare la struttura dell'asilo, su per giù questa qui è la data di edificazione. Ma ha mantenuto proprio, poi entriamo anche nella piazza, che ha una sua conformazione anche architettonica, perché anche qui chi ha costruito, ha costruito un nucleo pensandolo. E quindi vediamo anche che le abitazioni hanno una struttura architettonica analoga, proprio perché c'è stata una costruzione complessiva, e hanno ricavato al centro quest'area che, sebbene un po' adibita a parcheggio, però ha un grosso elemento di piazza. Sì, infatti, a differenza di altri comuni, di altri borghi, di altri ex comuni in cui siamo stati, devo dire che questo di Trenno mantiene il suo centro con la sua piazza, nonostante le tante auto, nonostante la funzione anche da parcheggio, e la riesce a mantenere, la mantiene grazie anche a tante attività commerciali che comunque resistono e tengono vivo quello che è appunto l'ex comune di Trenno. Sì, c'è una dinamica, anche se chiaramente la struttura architettonica è più recente e quindi non risale all'antico comune di Trenno, però ecco, si può fare costruzione edilizia nuova, con un certo raziocinio, che favorisce anche il fare comunità, il ritrovarsi. Ecco, questo è l'esempio di Trenno, diremmo che è significativo da questo punto di vista, ma anche pensare a tutti quanti il passaggio sotto coperto. Sì, effettivamente noi possiamo tranquillamente passare da questo lato alla piazza, completamente coperto, e anche l'altro lato alla piazza, dove ci sono attività commerciali, completamente coperto. Quindi noi, anche una giornata, magari, non tanto bella come quella di oggi, possiamo sfruttare. No, la logica delle città medievali, con i portici, eccetera, è stata riproposta quando, esattamente 70-80 anni fa, questo qui è un pochettino il tratto. Quindi l'urbanistica e anche la struttura architettonica è importante, poi non è determinante, ma è importante, perché esiste un problema anche di mix sociale. È chiaro che se noi facciamo come nei quartieri popolari, dove i quartieri pubblici, popolari, sono la sedimentazione di tutte le criticità, perché ci vanno i più deboli, quelli che non hanno reddito, ma che cosa volete che vengano fuori da quei quartieri lì, no? Viene fuori esattamente che sono un pronto soccorso e sono soprattutto alla merce di tutti, e in particolare dei violenti e quelli che fanno soprusi. Qui siamo nel municipio 8, perché, se non sbaglio, il burgo di treno è municipio 8, invece il comune, diciamo, della sede del comune di treno, che abbiamo visto prima, è invece del municipio 7, giusto? Esattamente. Siamo a cavallo. Noi abbiamo, una volta forse era tutto zona 19, forse, no? Il burgo di treno, che, a differenza del parco di treno, Io volevo portarti lì adesso, non te l'ho detto all'inizio, non vorrei portarti lì, appunto, perché c'è questo tema anche, la differenza tra il burgo e il parco. Quindi qui adesso cerchiamo anche di attraversare la strada. Angelo, ti chiedo di farci, bravissimo, ecco, ci fa anche da scudo nel caso, qui tra pazzi segni anche di un passato, appunto, importante di questo burgo, con anche una cappella votiva qua, molto, molto importante. Continuiamo, appunto, dicevi, scusa, Valte, Nella individuazione anche, poi ne abbiamo parlato nelle puntate anche precedenti sulla questione dei municipi, è chiaro che i consigli di zona, il decentramento che era stato introdotto negli anni 68-69, aveva cercato anche di armonizzare quello che erano i confini amministrativi dei consigli di zona con quelli che erano un pochettino le realtà storiche e sociali di allora. E non sempre facile, perché chiaramente le realtà storiche, noi pensiamo che gli atti documentali che dichiarano che ci esistesse un luogo chiamato Trenno, risalgono al 1017. Quindi qualche anno fa, assieme appunto a Figino, hanno celebrato il millenario di esistenza di questi posti. Mille anni, wow! Quindi è chiaro che ci sono tutta una serie di trasformazioni e anche andare poi a delimitare queste nuove aree amministrative non è così semplice. Infatti noi avevamo situazioni, questa era la vecchia zona 19, che confinava con la zona 18 dove via Novara faceva da spartitrafico. Allora, chi abitava da una parte di via Novara e sul marciapiede, fino al marciapiede era in zona 18, poi la strada... Numeri dispari! Numeri dispari! No, esattamente! Zona 18, numeri pari zona 19. Ecco, qui dà già un po' la difficoltà di dividere dal punto di vista amministrativo, però al di là di questi aspetti di confine è che appunto Trenno, per esempio, Trenno e Parco di Trenno avevano una medesima realtà amministrativa. Oggi come oggi, con le zone, appunto la 7 e le 8 divide, il Parco di Trenno è diviso dall'abitato di Trenno, che vuol dire che qui siamo proprio sul confine nella sostanza. Eh sì, perché allora Angelo ti chiedo al punto di girarti. C'è anche uno scogliato che ci dà il benvenuto all'interno del Parco di Trenno. Appunto, qui siamo sul confine, no? Quello che vediamo davanti a noi è il Parco di Trenno ed è quindi zona, municipio, scusa, municipio 8, giusto? alle nostre spalle invece le case dell'abitato di Trenno che invece sono municipio 9. Certamente. Ovvio, da qualche parte un confine bisogna aprirmi il metodo, da qualche parte, quindi, insomma, forse è uno di quelli che ci danno meno fastidio questo, no? Il problema per i municipi non è tanto il confine, è quello che ci si aspetta che facciano per gestire gli aspetti comuni, no? E che invece rimangono ormai da più di 50 anni una lettera morta. Da questo punto di vista è significativo che ci fosse stato fosse stato provato dal Consiglio Comunale nel 1977 un regolamento abbastanza importante che prevedeva tutta una serie di competenze anche piuttosto ampie perché la logica era quella di gestire comprensivamente un territorio, non di fare qualche funzione della serie metto una topa e di là mi viene fuori un disastro ma cercare di gestirlo complessivamente. Che fine ha fatto quel regolamento approvato dal Consiglio Comunale? È rimasto lettera morta per 20 anni sostituito Poi hai visto, infatti, no? Nel 1997 da un altro regolamento peraltro un po' più restrittivo ma anche quel regolamento lì che fine ha fatto esattamente rimasto lettera morta per 19 anni fino al 2016 e anche il regolamento dei municipi ancora più restrittivo vi basti dire che il regolamento dei municipi attuali prevede competenza sull'edilizia privata ma non sull'edilizia pubblica Questa è una delle grandi lamentelle che abbiamo raccolto dai vari presidenti Questa è una contraddizione organizzativa in termini infatti la sottolineatura che poniamo è esattamente della configurazione organizzativa che innanzitutto non può essere quella che funzionava 150 anni fa quando il Comune di Milano era grande 9 km quadrati è vero anche che la popolazione in quei 9 km quadrati residente era di quasi 200.000 abitanti oggi è la metà però rimane il fatto che non ci sono assolutamente di elementi per una gestione del territorio se si pensa di gestire il territorio tra virgolette periferico da Palazzo Marino avendo come riferimento l'amministrazione comunale ma poi la struttura amministrativa che insiste su Milano è molto più articolata dalla prefettura quant'altro ma per rimanere ai confini comunali e agli organismi comunali ma è dimostrato dei fatti che non si riesce quindi persistere e pensando che avendo un'idea di città policentrica la città policentrica lo diventi veramente non è così purtroppo se non c'è un'amministrazione policentrica non c'è città policentrica questo è il dato e qui siamo ben lontani da Palazzo Marino perché insomma i chilometri che ci dividono non sono pochissimi diciamo che siamo a circa 4 miglia vecchie quindi possiamo fare siamo circa 6 chilometri e mezzo su per giù ma soprattutto diciamo che si vede la distanza diciamo proprio ambientale anche non so come dire diciamo che qui c'è il verde ecco cioè se staccassimo questo pezzo e lo mandassimo a qualcuno dicendo scopri in che posto nel mondo siamo non so quanti direbbero Milano sicuramente però per esempio qui così c'è la sede delle guardie ecologiche volontarie qui davanti a noi quindi che sono una struttura del comune di Milano anche se fatta da persone volontarie quindi abbiamo questa diciamo così sovrapposizione sei un volontario ma sei tra virgolette dipendente del comune di Milano da un certo punto volontario comunale ma che da un certo punto di vista non è nemmeno un'impostazione errata nel senso che si possono valorizzare tantissimo le competenze anche le disponibilità dei cittadini a fare delle cose pubbliche ecco quello che deve essere un po' armonizzato il problema dell'armonizzazione è che qual è il rapporto che c'è tra le guardie ecologiche volontarie e il relativo municipio siamo sempre in quella struttura a canna e d'organo dove sono enti che non si parlano per parlarsi devono passare tutte da Palazzo Marino cioè è un centralismo che non funziona organizzativo e che può andare bene per gestire un piccolo comune pensiamo a Baranzate che si staccò una ventina di anni fa da Bollate è che è grande meno di 3 km quadrati quando invece noi abbiamo delle zone che sono grandi 30 km quadrati ma come in questo caso nella zona 8 oppure anche nella zona 7 siamo sull'ordine dei 180.000 180.000 abitanti cioè grandi quanto la città di Brescia come popolazione secondo comune Lombardia se fosse staccata da Comuniano si dice sempre questo quindi se si pensa di gestirlo da Palazzo Marino veramente c'è una miopia di fondo ma che è generale non è tanto per chi è il sindaco ah no 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 però scusa Walter hai detto che il primo regolamento di che anno era? del 1977 diciamo che i colori sindaci idee e partire sono passati tantissimi ma il problema è diversista quindi non è un c'è c'è chi pensa anche la struttura burocratica perché la struttura burocratica se questi regolamenti non hanno avuto poi l'attuazione è sicuramente anche la parte burocratica non ha spinto particolarmente per renderli operativi si pensa che il centralismo possa governare tutto invece il massimo può comandare nel senso che può dire ah io lì faccio una cosa lì ne faccio un'altra perché è il centralismo ma poi ha il mio consenso infatti questa cosa infatti qualcuno dice ma non viene fatto perché così qualcuno è libero di decidere fare quello che vuole sul territorio va bene questa qui è un'impostazione però la conseguenza che cos'è è che il resto della città abitativa non è gestita poi ci lamentiamo che ci siano le discariche abusive le occupazioni abusive e tutto quello che viene e questo non è il risultato di un destino cinico e varo è il risultato di scelte amministrative fatte e non fatte Walter siamo arrivati alla fine degli undici di un bel giro di undici comuni ne abbiamo visti tutti quanti gli ex undici comuni della città della cerchia intorno a Milano ora quartiere di Milano e qui finisce il nostro viaggio un viaggio pieno di tante belle cose che abbiamo conosciuto tante persone che hanno fatto belle cose per i municipi per le loro zone per i loro territori per i loro quartieri e con appunto l'auspicio che magari questo centenario possa portare a ripensare un po' diciamo che abbiamo cercato di dare una risposta sicuramente con Milano News e Focus Periferie a quella domanda quella considerazione di Bonvesing dalla Riva i milanesi non conoscono Milano ecco attraverso queste puntate c'è la possibilità in maniera molto sintetica di avere delle finestre che si aprono sulla città di Milano e quindi chi abita l'Ambrate ha potuto vedere potrà ancora rivedere sul web che c'è l'antico comune di Trenno Uniti quindi dall'altra parte della città che magari uno non sa nemmeno dove sia e chi sta anni guarda e sa che c'è anche il vigentino e così via ecco questa è stata sicuramente una cosa adesso bisogna fare però il passo cioè da quello che è un po' la narrazione le cose immaginifiche eccetera passare all'amministrazione questo è il punto e l'amministrazione e l'amministrazione deve copiare quello che erano gli intendimenti di chi ha introdotto il decentramento amministrativo negli anni 68-69 questa è la condizione perché Milano diventi veramente una città policentrica e quindi non ci sia il solito centro dove è ricco e il resto che è dimenticato la città policentrica vuol dire dare una responsabilità amministrativa che curi quel luogo lì perché dalla balazza marina non si riesce umanamente e le organizzazioni non sono fatte da chissà quali meccanismi sono fatti dagli uomini almeno oggi eh sì almeno oggi finché la intelligenza artificiale non ci supererà chissà chissà se prende magari il regolamento del 70 e lo applica grazie Walter grazie davvero grazie a tutti voi che ci avete seguito consulta per il film Milano comunque continua nella sua battaglia culturale e anche politica diciamo iniziativa sedimentazione e tra l'altro invitiamo sempre a tenere in considerazione le giornate periferie che continuano appunto terzo weekend di tutti i mesi terzo fine del mese esattamente perfetto grazie mille Walter grazie a tutti voi ci hai seguito finisce qui questo speciale appunto degli 11 comuni dell'annessione dei cent'anni dell'annessione degli 11 comuni a Milano ma sicuramente non finisce qui il racconto delle periferie non finisce qui l'impegno di Milano News e il focus periferie verso le periferie milanesi che dire ci si vede in periferie allora grazie mille e alla prossima